Se muovo la visuale il video finisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore forto così come lo vedete scritto a schermo Accettate Da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo nella zona qui sotto che vedete Quella con le auto Per tentare la sfida di oggi che è se muovo la visuale il video finisce Sarà divertente Sarà divertente Io non devo assolutamente toccare il coso della visuale Eh eh esatto Ok io ho un'arma Ok E io non devo toccare l'analogico destro A parte che sto laggando Oppure 150 di ping Questa cosa sarà divertente Ok ragazzi Sì effettivamente devo anche camminare così Io non so quanto durerò La sfida ragazzi finisce se muovo la visuale o se muoio Facciamo così perché altrimenti credo che registrerò 300 partite Sinceramente non mi va di arrivare a 10 minuti E fare un video noioso Solo per appunto arrivare a 10 minuti Credo che vi lascerò una clip divertente E io che cerco di fare questa sfida folle Non ho voluto buttarmi ad agenzia perché sarebbe stato ridicolo Cioè non avrebbe avuto proprio senso questo video Sarei stato semplicemente massacrato Non ho neanche modi per girarmi Ci sono anche degli oggetti dietro L'unico modo che posso avere Serve quello di girare all'indietro Aspettate Eh forse con l'ombrello le cose cambiano sapete Forse con l'ombrello posso fare qualcosa Io se faccio così con l'ombrello Mi pare che non muovo la visuale Però io non voglio fare cazzate Eh così per esempio potrebbe essere meglio Non sto muovendo la visuale Però comunque posso un attimo muovermi Forse ragazzi con l'ombrello la cosa diventa leggermente più possibile Solo che io ripeto non posso ancora muovere la visuale Vabbè ragazzi per ora io mi piglio questi oggettini Forse questo può essere più adatto alla nostra situazione Non posso muoverla proprio L'analogico lo devo per forza utilizzare per muoverla Va bene Io già se riesco a fare una kill così Cioè credo di diventare il Nobel In astrofisica Cioè lo voglio Ragazzi comunque vi approfitto per dirvi due cose La prima è che alle 21 stasera saremo in live sul sito Viola Vi lascio nella sezione live streaming Il link dove potete iniziarmi a seguire sul mio canale In modo da non perdervi tutte le live Live in cui giochiamo tra l'altro anche assieme Quindi se volete giocare seguitemi Ci becchiamo stasera alle 21 E la seconda ragazzi è che ho un profilo di TikTok Quindi se volete seguirlo mi raccomando Vi lascio sempre in descrizione nella sezione social La possibilità di farlo Perché lì insomma ragazzi pubblico Un sacco un sacco di video divertenti Clip stupide Quindi vi consiglio di andarle a vedere Perché non vi perdete veramente tantissime cose Se non lo fate Oh È eliminato uno È andato a posto da visuale Questa cosa è ridicola Ma veramente sta andando così bene sta sfida Oh apri la porta No non me la fa aprire Non me la fa aprire No aspettate ragazzi Non voglio dotarmi a quel tipo Solo non ho capito se quello era un bot C'è un bot dietro di me C'è un bot dietro di me Muori Muori No mi ha eliminato il bot Io ho mosso la visuale Alla fine C'è un bot dietro di me